Lady Gaga Bad Romance Ed eccola qui la sigla perché è arrivata lei Sono arrivati gli eventi della settimana a cui io non andrei E benvenuta a Ery B Buongiorno a tutti Gli eventi della settimana a cui tu non andresti Buongiorno a tutti Anzi, vogliamo levarlo sto Gli eventi della settimana a cui tu non vai Ma lasciamo il dubbio Ok, va bene Non si sa mai perché ogni tanto ci sono delle cose che dico Vabbè lo metto però Vabbè, iniziamo Gli eventi della settimana a cui Ery B non andrebbe Allora ci sono tantissimi eventi questo sabato Volontariamente non ho messo niente per il giorno della memoria Perché io andrei a tutti gli eventi del giorno della memoria Bel disclaimer Ok, quindi il primo evento dove io non andrei È un po' lontanuccio È a Caratebrianza Però mi piaceva tantissimo la descrizione Per Ery B è al confine del regno Sì, sì, non so neanche dove sia In Brianza Però so che è lontano, c'è Brianza quindi lontano Ok Quindi il primo evento è dedicato ai bambini E si chiama Asinelli che passione Per bambini dai 6 mesi ai 3 anni Ovviamente andranno a giocare con gli animali Organizzata presso la tribù degli zoccoli Alla casa degli animali di Caratebrianza Costa 15 euro a bimbo Con ovviamente un accompagnatore Però se gli accompagnatori sono due Ci metti 5 euro in più Ecco Ecco, capito Ti piacerebbe andarci Beh, le Asinelli sono carini Non lo so, secondo me c'è tanta puzza Poi andiamo avanti Sempre per i bambini e i ragazzi In realtà questo è un evento che mi piacerebbe Se avessi l'oggetto Cioè C'è Alla graffetta Che è la Come si chiama? Cartoleria all'interno di Cascina Merlata Che tra l'altro è un nome bellissimo Complimenti perché è veramente bello Ci sarà uno scambio di figurine Ah, bello Sabato dalle 16 alle 18 Nei pressi appunto della cartoleria Ci sarà questo incontro tra ragazzini Ma anche vintage o solo Dovresti essere solo figurine Non lo so, non è specificato Qui c'è quella delle NBA degli anni 90 Andresti a scambiarle con qualcosa Ma neanche morto Eh, quindi statene a casa tua Giusto E vai avanti a imbanchare Come avevi detto Poi Due musiche Due cose musicali Ok Il primo C'è un concerto d'arpa L'Ulme di Candela Nella chiesa di San Bernardino Alle Monache Che è in zona Carrobbio Ok Dalle 17 alle 20 di domenica L'organizza Lombardia Segreta Se volete andare Andate Io mi ci vedo già lì che sto dormendo Però vabbè Invece un evento dove assolutamente non andrei E sicuramente se ci andassi non mi addormenterei È il concerto di Gabri Ponte ad Assago Un grandissimo concerto per il ritorno di Gabri Ponte Tu Fabio ci vorresti andare? No Ok perfetto Va bene Siamo sulla stessa linea d'onda E poi ci sono due cose In realtà Che potrebbero anche quasi interessarmi La prima è il festival del fumetto Al parco di esposizione di Novegro Il 27 e il 27 e il 28 di gennaio ci sarà appunto il festival del fumetto L'unica cosa per cui non ci andrei L'unica cosa per cui non ci andrei è che effettivamente ci saranno tanti travestiti da cosplay Ma questa cosa non fa molto impazzire Però vabbè Fa niente Se voi volete andarci Andateci Divertitevi L'ultimo evento a cui sicuramente non andrò Ma mi piacerebbe andare Ma costa veramente tanto C'è la Milano Tattoo Convention Milano Tattoo Convention? Perché se non ti piacerebbe andarci? Sì mi piacerebbe andare Mi piacerebbe più che altro per capire Se ti fanno poi i tazioaggi a gratis pagando il biglietto Ma no Te lo dico già io Comunque il biglietto per tre giorni costa 60 euro Sì ma non te lo fanno Un giorno soltanto costa 25 euro Ma comunque potete andarci In via Moncucco in zona famagosta Divertitevi E fatevi tanti 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 brutti tatuaggi Ma perché non fate quelli brutti? Perché sentenzialmente la gente mi piace i tatuaggi brutti Ma non è vero Dai c'è roba bella in giro Sai che la nostra viola è piena di tatuaggi Non ho scoperto Non se ne vede uno Ma mi ha detto che è piena di tatuaggi Io invece sabato andrò A farmi un piercing al naso Vedi? Alla veneranda età di 40 anni Se 50 anni ti mette a fare il piercing al naso Esatto Va bene C'è qualcuno di questi eventi a cui tu vorresti andare? Gazzinelli Gazzinelli mi piace Peccato non puoi andare Perché costa 15 euro solo per i bambini Dai sei mesi ai tre anni Cos'è un bambino di sei mesi con un asinello? Lo tocca Non è che non puoi neanche sederci sopra Non lo so Comunque se volete andarci A Caratebrianza Divertitevi Arrivederci E vabbè Questi sono gli eventi della settimana A cui Eribe non andrebbe Voi avete qualche idea di cosa fare? Ad esempio Alberto ha detto che vai un'oltre po' A mangiare al ristorante E voi altri? 331-78-53555 E andiamo avanti con la musica Quella Ma non dico niente Anzi guarda La faccio partire e basta Questi sono Non vi dico neanche chi sono Non vi dico neanche chi sono